Se sta un amico gli fa, voi sapete perché mi sono divorziato? Ora te lo dico subito. La mattina del compleanno mio sono sceso con cucina a fare colazione e mi moglie e i miei figli non mi hanno fatto gli auguri. Anzi, se ne so io, manco mi hanno salutato. Vado in ufficio, i miei colleghi, nessuno mi fa gli auguri. Mi siedo in ufficio, arriva la mia segretaria, mi fa gli auguri, mi fa sentire speciale, mi porta a pranzo, un'ora di risate e di simpatia. Poi mi porta a casa, mi dice aspetta un attimo sul divano, vado cinque minuti in bagno. Esce dal bagno con mi moglie, i miei figli, tutti che mi fanno buon compleanno. E allora? Perché te sei divorziato? Perché stavo nudo.